Papa Francesco ha dedicato gli ultimi momenti del suo viaggio in Turchia per stare vicino a chi soffre, come i giovani profughi e sfollati provenienti dalla Turchia, dalla Siria, dall'Iraq e da vari paesi del Medio Oriente e dall'Africa incontrati nella Cattedrale dello Spirito Santo di Istanbul. Dopo gli interventi di alcuni giovani il Papa ha spiegato di aver molto desiderato questo incontro e che avrebbe voluto incontrare anche altri rifugiati, ma non è stato possibile fare altrimenti. Ha ricordato come i profughi si trovino spesso privi i beni primari, dall'abitazione all'assistenza sanitaria, dall'educazione al lavoro. Le condizioni in cui tanti profughi devono vivere, ha esclamato, sono intollerabili. Papa Francesco ha lanciato quindi un appello per una maggiore convergenza internazionale volta a risolvere i conflitti che insanguinano le vostre terre d'origine, a contrastare le altre cause che spingono le persone a lasciare la loro patria e a promuovere le condizioni perché possano rimanere o ritornare. Ha incoraggiato chi opera per la pace a non perdersi d'animo e si è rivolto ai capi politici affinché tengano conto che la grande maggioranza delle loro popolazioni aspira alla pace, anche se a volte non ha più la forza e la voce per chiederla. Quindi il Papa ha ricordato l'opera efficace di tante realtà cattoliche che offrono aiuto ai bisognosi senza alcuna discriminazione e ha sottolineato che Dio non dimentica nessuno dei suoi figli e che i più piccoli e i più sofferenti sono i più vicini al cuore del padre. Prima di raggiungere l'aeroporto di Istanbul, Papa Francesco si è fermato all'ospedale armeno San Salvatore per far visita al patriarca almeno di Costantinopoli Mezro Mutafian gravemente malato. Nel lasciare la Turchia ha potuto salutare ancora una volta il patriarca ecumenico Bartolomeo Prima in aeroporto prima di salire sull'aereo che lo avrebbe riportato a Roma.